Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, omofobia, Laura Boldrini e Grillini. Dio che spettacolo questi Grillini, cari amici, che ancora non si sono fatti addomesticare dal sistema. Sono ancora genuini, io tremo, tremo solo all'idea che un giorno potranno essere anche loro addomesticati, ma invece ancora non si sono fatti domesticare. Ieri in Parlamento hanno mandato a quel paese la bella, brava e buona Laura Boldrini, capito? Laura Boldrini, Laura Boldrini l'hanno mandata a quel paese, l'hanno mandata. Naturalmente PDL e PD hanno fischiato contro i Grillini, ma i Grillini non hanno esitato, due volte, uno con parole più ruvide e un altro con parole più dolce, i dolci hanno detto dimettiti, dimettiti Laura Boldrini, ma sono un argomento sensibile come l'omofobia, la legge contro l'omofobia. Tu, Laura Boldrini, che mi rappresenti l'apice dei diritti civili, dici tranquillamente che la questione sarà inviata a una commissione, la rinvia a una commissione, la sottrai a un dibattito in aula, ma hanno ragione, hanno ragione. Io cosa hanno detto Alessandro Di Battista, sto leggendo qua sul quotidiano politico della stampa, di oggi, giovedì 19 settembre 2013, Alessandro Di Battista, la presidente Laura Boldrini, appare sempre più inadeguata, nervosa e incompetente, ma insomma Laura Boldrini, ma perché lei almeno non si mette a piangere, si mette a piangere lì, lì, nell'aula che lei presta, si mette a piangere, dica mi dispiace, in questo momento non possiamo discutere la legge contro l'omofobia, mi dispiace, mi metto a piangere, no, 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 imperturbabile ha detto inviamo tutto a una commissione, e hanno fatto bene i grillini, hanno fatto bene a mandarlo a quel paese, ma non si fa così, almeno dai un segno di commozioni almeno, ah che meraviglia questi grillini che ancora non si sono fatti addomesticare dal sistema, la legge contro l'omofobia, cari amici, è una cosa delicata, è perché la legge contro l'omofobia va a sfociare pure, ti va a sfociare pure sulla questione dei femminicidi, sono tutte cose intrecciate, capito, tutte cose intrecciate sono a livello patriarcale, va bene cari amici, sono tanto contento, perché gli amici grillini hanno mandato a quel paese la Laura Boldrini che è tanto bella, tanto buona e tanto brava, però non gli ha dato tanta importanza alla questione di una bella legge contro l'omofobia, sono tanto contento questa mattina, va bene cari amici, grazie se non avete ascoltato e a tutti voi tanti saliti da Serafino Massoni.